Sono tornate dalla Spagna e sono risultate positive al Covid. Quattro ragazze padovane di 19 e 20 anni sono state contagiate dal virus durante una settimana trascorsa a Barcellona. Le ragazze, che fanno tutte parte dello stesso gruppo, sono tornate in Italia in aereo lo scorso 28 giugno e si sono sottoposte al tampone in azienda ospedaliera. Il sequenziamento del virus ha confermato che si tratta della variante Delta. Ora sono in corso accertamenti su altre 10 persone entrate in contatto con loro. Altri quattro viaggiatori di rientro da Madrid e Barcellona si sono sottoposti al tampone. Intanto, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei positivi al Covid nella nostra provincia cala di appena due unità. Su 9.155 tamponi analizzati in azienda ospedaliera, 28 sono risultati positivi. Di questi, 10 alla variante Alpha, ovvero quella inglese, e ben 18 alla variante Delta. In pronto soccorso si sono presentati in una settimana 206 persone con sintomi simili Covid. Molti bambini, risultati però tutti negativi e solo due adulti invece positivi. Nessuno però ha necessitato di ricovero, un trend questo che fa ben sperare, visto che da una settimana non ci sono stati nuovi pazienti ricoverati in azienda ospedaliera. Attualmente sono tre le persone seguiti in area medica e una in terapia intensiva. Intanto, Padova e Provincia superano la media regionale sul fronte vaccinazioni. Siamo la provincia con più vaccinati. Il 59,4% ha ricevuto la prima dose di vaccino. Si viaggia a circa 8.400 dosi giornaliere in queste ore. Inoltre, l'USLA ha messo a disposizione altri 82.000 posti per la vaccinazione a partire dai 12 anni. Gli appuntamenti sono disponibili dal 5 agosto all'8 settembre. E quindi con la seconda dose...